Bene la campagna vaccinale per gli adolescenti 12-18 anni con l'attivazione degli hub vaccinali direttamente negli istituti superiori, ma è necessario colmare le percentuali delle terze dosi ancora non ottimali per alcune fasce d'età. Presto anche nelle scuole elementari si organizzeranno giornate dedicate con l'obiettivo di una più ampia partecipazione della fascia d'età 5-11 per evitare il rischio d'ad e favorire la didattica in presenza. La pandemia sta rallentando, sta venendo meno però la percezione della pericolosità del covid e con essi si registra un freno di quanti si stanno recando ai centri vaccinali. E la fotografia scattata dal dirigente medico, il dottor Arcangelo Sagesetozzi, responsabile dell'area vaccinale covid dell'Asle di Salerno, che ai nostri microfoni questa mattina analizzando numeri e percentuali della popolazione vaccinata della provincia di Salerno, ribadisce che il booster resta l'arma fondamentale per arrestare la diffusione del covid. Noi abbiamo aperto oltre i 220 punti vaccinali che avevamo aperto fino adesso, abbiamo aperto ad oggi altri 10 punti vaccinali circa dedicati ai ragazzi, spesso trasferendo i punti vaccinali già funzionanti in sedi scolastiche. Probabilmente faremo la stessa operazione sia per altre scuole che ce lo stanno chiedendo, anche in provincia certo, ciò sta avvenendo, sia per le scuole primarie dove è necessario che anche i ragazzi da 5 a 11 facciano prima possibile le prime e le seconde dosi. Questa spinta ci deve aiutare, è indispensabile per coprire questa fascia che ancora ha bisogno di uno scatto di protezione con le terze dosi. Noi abbiamo fatto circa 53 mila seconde dosi dalla fascia 18-12, abbiamo fatto 25 mila prime dosi, terze dosi, che significa che dobbiamo recuperare un 50% di dosi per poterlo fare facilmente nelle scuole può essere importante. Il venir meno dell'inquietudine della pandemia ci sta rallentando, io sto notando che anche nelle scuole e anche da queste parti c'è l'afflusso ma non abbiamo la carica precedente, non l'abbiamo nella scuola, non l'abbiamo neanche presso le strutture esterne. Per questo noi adesso facilitiamo ulteriormente l'accesso ai centri vaccinali, sul sito dell'Aso troverete legni orari di apertura, ci si può regare anche direttamente senza bisogno di prenotazione, senza bisogno di attivare l'open day, tutti i centri sono aperti per tutti quelli che si regano e vaccineremo tutti quanti. È importante per uscire da questa situazione, non solo continuare a utilizzare gli strumenti di protezione, continuare a rispettare le distanze, continuare anche a volte ad utilizzare col rigore le mascherine, ma è importante fornirci lo scudo invisibile che è il vaccino. Con questo scudo invisibile del vaccino probabilmente riusciremo a riprendere tranquillamente la vita normale aspettando l'autunno. Dottore, lei lo diceva, probabilmente ultimamente è un po' calata la preoccupazione da parte delle persone rispetto al covid, la sintomatologia più bassa fa pensare insomma che il covid si sia un po' indebolito, ma di fatto però davvero è così, negli ospedali si registrano ancora tanti posti occupati soprattutto di persone di una certa fascia di età con una sintomatologia diversa rispetto a quella dei giovani. Dobbiamo considerare una cosa, questo virus è un virus terribile, gira, rigira, sta girando fortemente nella nostra popolazione e va a prendere quelli che non hanno gli strumenti di protezione adeguate. Noi non a caso negli ospedali abbiamo persone ricoverate, abbiamo i numeri ancora importanti e quando andiamo a analizzare queste persone spesso sono persone che hanno fatto o non hanno fatto dosi o hanno fatto solo una o solo due dosi. Perciò è cruciale chiudere questo circuito, noi abbiamo, sta venendo meno la percezione della diffusione del virus, il tracciamento ci dice che viene di meno ma ancora abbiamo le coperture, ancora abbiamo la pressione sugli ospedali, ancora abbiamo un numero di persone colpite e anche in modo grave che ci deve far riflettere. Perciò facciamo un ultimo sforzo di generosità. Completiamo i cicli vaccinali significa che riusciremo ad evitare a quelle persone che per davvero non si possono vaccinare perché ci sono e vanno rispettate il rischio perché con un virus che gira in questo modo alla fine arriva anche a loro. Il governo allenta un po' le misure, si corre il rischio secondo lei, un po' come già avvenuto nel passato, che ancora una volta si possa ricadere in un'altra variante, in una diffusione diversa del covid? Proprio per questo è importantissimo chiudere il prima possibile il circuito e completare i cicli vaccinali. Il virus, questo è un virus che muta, lo fa di mestiere, ha la sua caratteristica e va a pescare le persone che non hanno difese immunitarie adeguate, principalmente le persone che non hanno difese immunitarie adeguate. È un virus stagionale, probabilmente il fatto che ci arriviamo alla primavera e all'estate contribuisce a realizzare questa situazione, però dobbiamo capire che molto probabilmente o siamo capaci di chiudere in questa opportunità prima possibile oppure per l'autunno potremo avere di nuovo problemi.